Aggi ho subito mille colpi, ho sangue un po' in occhio e poi mi rendo conto che al finale sempre mi stacca i colpi, sono cresciuto in mezzo a me, volito parlare in strada con me, ma ci devono essere la mia coscienza perché? La gente pensa sulla giudicata, prima pensata tutto quello che è potuto passare, stupo per la città, da ogni nottata, passare i giorni, stiamo sempre, sempre più inguaiata, va sempre in mananza, non pensai mai niente, mi diceva non, ma ora guarda sotto il cielo scuro, chi se ne ripilaga, vado a capire come pensi, fino a quando ripensi che la gente non ti apprezzo. A livello che sa c'è come si fa, a livello che la gente ti sfrutta, a livello che non esiste paragone, a livello che non mi mangiano emozioni, a livello che sa c'è come si fa, a livello che la gente ti sfrutta, a livello che non esiste paragone, a livello che non mi mangiano emozioni. A livello estremo, ho scaricato il raggio, non mi blinde, va a fare mocca a chi ti avviva, ma non f***o se ti piace, la caserta rappresenta fino a quando tu mi senti, vuoi parlare la vita quotidiana, quello che fa schifo sempre, o di me mi sembra lo stesso, ti parlo la vita, se si fa bene il culo, ti trovo sempre oggi la vita, tutto quello che a carriere va mica, poi mi hanno tradito, e come risposta, ci ho buttato sempre del serito, a fare una brutta fine, mocca a chi va viva, si parlo con cazzo che si entra a fabbri fibra, il mio fumo e canne, ma qual è il problema, tu mi chiamas tossica, ma andaccio chiesto in un barriera, quindi è meglio si faccio i docesi, tante resta sempre stessi, non so tipo che c'è niente, non pille pièce, stessi problemi, andate in un'emisfera, ed è perché se c'è il spero, in un'ora diventa invisibile come a cashfer. A livello che sa c'è come si fa, a livello che la gente ti sfrutta, a livello che non esiste paragone, a livello che non mi mangiano emozioni, a livello che sa c'è come si fa, a livello che la gente ti sfrutta, a livello che non esiste paragone, a livello che non mi mangiano emozioni. a livello che non mi mangiano, a livello che non mi mangiano, ma ripiense, Grazie a tutti